Donare un sorriso a chi è in difficoltà è lo spirito del Natale, una festa in cui i piccoli gesti di solidarietà assumono un valore ampio ed educativo. Le associazioni Teniamoci per mano e le ali di Emma, aiutate da amici e volontari, hanno ricalcato questo spirito portando nelle case degli anziani e dei disabili di Tortore, Praia Mare, un dono e un po' di sana allegria. Lo hanno fatto ieri con l'iniziativa Musica on the road. A sostenere il progetto anche i parroci delle chiese Santo Stefano Protomartire di Tortore e Sacro Cuore di Praia Mare, che hanno segnalato le abitazioni in cui ha fatto tappa il tour dei volontari, soddisfatti per la riuscita dell'evento gli organizzatori della manifestazione. Il nostro obiettivo, ci ha detto Franca Parise, presidente dell'associazione Teniamoci per mano, era quello di donare un sorriso. Dare gratuitamente il proprio tempo per rendere felice chi è in difficoltà è un'esperienza che insegna e che fa riscoprire valori dimenticati. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa manifestazione, perché con noi c'erano anche tanti amici, qual è il gruppo delle ragazze smile e alcuni componenti del complesso folcloristico Li Sette Magari di Tortora, che ci hanno sostenuti in ogni modo. Tante le segnalazioni che sono giunte alle due associazioni e tante le case che non sono state visitate per mancanza di tempo. Per questo motivo gli organizzatori non escludono che una seconda tappa del tour potrebbe essere riproposta nei giorni che precedono l'epifania. Per il momento rimangono queste immagini che immortalano gli attimi più interessanti di questa iniziativa, messe in piedi con pochi mezzi, ma con quell'entusiasmo che rende indimenticabile ogni esperienza.